vi facciamo questa parte da taglio e ciao a tutti ragazzi come state oggi siamo con il nostro grande christian salari ehm ok eh vabbè 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 bella domanda raga scrivete hashtag scioppone dai scherza ma cosa dici che tu mi regali le cose a me no io te le regalo a te ma lo so che tu sei babbo natale ma io voglio un altro regalo voglio una skin in questo momento vorrei scrivere su share factory shish in questo momento una terra gg attento pure dietro togliti pro togliti te vabbè dietro la scala da vedere che si chiama nick smith eh questo che ti ha ucciso ah ma il suo amico è terra godo ma io all'infinito e oltre come infinito ma non fa loser quando l'ha fatto loser ah ok a me non lo sta facendo un loser lui sta giocando tranquillo tranquillo si il suo amico è morto li devi prendere per forza la scheda godo no l'ho presa uffa l'ho presa guardo che lancia le granate raga in questo video dovrei tipo tagliare un botto di parti perché ci saranno anche un po' di parolacce ti prego basta che non le dici in questo momento ti prego christian non mi farei tagliare le parti non dire nessuna parolaccia nessuna 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 nabbo si ne 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 anche quella b e quella e l'altra lettera ok b nub puoi dire così b di nub b di nub ecco così l'alfabeto oppure sto sbagliando madonna raga sembro ancora un bambino dell'asilo guardate ah grazie ti voglio tanto bene lui 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 ma volevi dire del livello più alto o del livello più alto a giocare molto meglio me l'hai già detto questa è tipo la centissima volta che me lo dici bro a me aiuto volevi dire quanta gente c'è tengo sette di vita tra un po' muoio dai bot aia no bro ci moriamo bro ci moriamo questo viene lo scar che casino bro campra di sotto le scale campra di sotto le scale eh vabbè eh vabbè ah no siamo morti addio bro dai qua campra di campra di campra di si bro campra di sotto le scale ti devi campra di sotto le scale si basta che ti campri sotto le scale questo è una cosa è un suggerimento prendi la scelta e poi campra di fatti la scelta perciutto lo spavale la scelta la scelta la scelta la scelta non che limone bravo attento bravo io vado in banio in banio quando devo fare un video ma è successo questo video lo eliminerò e poi taglierò la parte la parte la parte Grazie a tutti. 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 Vi devo dire una cosa, no, io gioco con voi se vuoi non ci mettete dislike video, perché vedo che a Cristian stai mettendo molti dislike. Cos'è? e basta così sono gli amici come vedete quando hai detto che sono gli amici gli amici salta così ti hai detto che sono gli amici e reti su questo salto ma perché non ho salto o facciamo una partita poi creativa no per cosa ah se ho messo pronto vuoi sapere di una cosa Cristian qualcuno mette pronto forse oggi c'ho colpas si alle 4 lo sappiamo forse alle 4 oggi c'ho colpas ho capito ho capito quante bubaccavede noi ne abbiamo 100 dopo se me ne avanzano 200 faccio da roba in un'altra no non lo fare perché non è tanto chiusa raga lo sapete che un mio amico l'hanno bannato manca noi perché perché praticamente ma vi racconto tutto lui no visto che shoppava tanto andava sempre su su wbacla dove c'è scritto gioca pass battaglia con pera armadietto si shoppita si bannano eh quello non ha senso eh lo so che non ha senso lo so che non ha senso poi ti chiamano poi ti chiamano bla 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 poi se spendi troppi soldi ti arriverà una denuncia cioè ma forse poi le pic e lei che c'è praticamente praticamente devi spendere il doppio nel senso è tipo tu compri wbac e la epic devi comprare devi cioè praticamente tu dai soldi alla epic la epic usa 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 i soldi che gli ha dato per i wbac e lei compra per i wbac e che la epic prende i wbac e le e le la regala a lui e le la regala a lui tutto calcolato di boh tutto calcolato ma christian non parla? eh forse ah forse parla ma christian parli? raga 2v2 2v2 io a lei mi facciamo scaldare 2 io a lei e mi facciamo scaldare 2 raga nessuna parolaccia ok? non è una parolaccia ok? non è una parolaccia tranquilla tranquilla io non dico parolaccia ma christian parla si parla si parla si parla ma prima abbiamo sconfitto 2 delle medie stavano per piangere però questa parte non è la dove siete? no brava vadoo che paura che paura fame oh nooo ognuno cura il suo compagno ognuno cura il suo compagno christian basta che vieni non ti scaldare 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 così un pisciolino raga lo curiamo poi ci curiamo e poi ci rivediamo ci dobbiamo ci dobbiamo vabbè avete capito no no non pushare adesso bro no bro aspetta mi devo curare ok ok per sopra vai l'hai dato? lo fai che gli stessi sono entrati per i pareti no 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 vai ognuno cura il suo compagno ok ok no 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 si si vai ognuno cura il suo compagno oh ma mi ha starato non c'è ansia vicini ci deve dare il tempo eh di curarsi non fa niente non fa niente basta che vieni bro eh madonna madonna mi ha attento dietro bro eh io ho 50 di vita eh infine lasciami No, non mi corre, perché? Bro, è one hit! E con la leggera one hit Vai, vai, vai No! Uno a uno Uno a uno Siamo forti Siamo forti? Siete migliorati Siete migliorati Cosa è arrivata? Ah, l'infinito Si arriva Perché non c'è fine E' un nuovo numero Cioè non è vero però Ma non ti campeare, vieni Qualcuno forse one hit Ah no, si sta scendendo Quello Non è vero Non è vero Non è vero Guarda come qui Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Dai cazzo Non, non, non Non è vero e' da cerrar Gli altri raggi vai ritorno dai 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 però le altre volte l'avevamo vinte noi hai finito 100 dai bro ognuno con l'altro compagno no no però è un 1 hit l'albero non era un 1 hit si e va bene allora si è scindato dai bro è un 1 hit giochiamo seri anche noi 100 a terra ok si credo cosa non ho capito modo vabbè bro dai stavano laggando se vi rilaggano si credo una volta si può scegliere ma dovremmo fammelo curare ok glielo facciamo curare eh si dai però io appena l'hai curato subito ok 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 oh ti deve curare chi è ma va a messa basta basta dai ok 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 no aspetta però ecco ecco un attimo un attimo devo curare se li è già curato sei sei no adesso si lo hai no no bro affanculo se quchini nab che merda dai bro i won't hit no e uno ancora il suo compagno vai 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 per uccidio si ma perché mi volevo uccidere ma è arrivato lui ma non è un insulto e siiii e siiii va cuore, va cuore, va cuore va cuore va cuore vai tu o curare va cuore, va cuore, va cuore dai be? va cuore va cuore va cuore va cuore raga non ci insultiamo raga no, raga facciamo così non vado a curare l'amico quando sta per raga le facciamo le regole allora quando uno sta a terra ora non dobbiamo curarlo secondo non ci dobbiamo insultare terzo non lo so se noi vinciamo non dobbiamo dire aiutare più forte abbiamo capito tranquillo non siamo stupidi nooo prima Cristian ok prima Cristian vai 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 tranquillo eh eh era era lui l'ultimo 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 no 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 va bene andiamo 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 al centro anzi no facciamo l'ultimo round e poi facciamo quello che vogliamo no 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 è andato al centro torna centro mettiamola io ancora non so il passaggio segreto di questa mappa io lo so c'è da apple dentro io vado alla ig ciao la ig no si eccola eccola raga perchè siamo in 4 ah no 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 siamo in 4 perchè siamo in 2 no 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 sto dicendo un'altra cosa raga cambia di squadra vabbè dai ah ecco i cristian oh non è tutto contro tutti raga raga perchè mi stavo muovendo quando c'era il caricamento io per la prima volta prendo una tabella per la prima volta raga ma se l'ho già usato io si vado regno 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 nooo nooo è un amico ma è nabbo ha abbandonato lui mi ha abbandonato lui vabbè è tranquillo che leader eh io non sono ah no sono io che leggero prima non ce l'ho già reggi se l'ho già reggi ce l'ho già reggi grazie però io con la D coltaccio rigenerati vorrei prendere un'altra arma rigenerati dai se mi fai non valere nulla push a molena ma non voglio essere con mio fratello poi ha avuto la vita poteva fare però volevo essere con mio fratello no no io vado a france torno che torno sì io tra poco avrò il passo vado con il tuo passo ma quello da 25 avrò quello da 25 pure avrete quello da 25 livelli non lo so no ma perché lo chiedi perché no dai guardalo dai vuoi non vuole se ti ritengono non lo vedi ok adesso adesso che si ritiene un botto a pedali che si ritiene un botto a pedali adesso dai tu dai tu dai tu dai tu dai tu buon hits tu io ho fatto 64 con la Jager vai un hit bro ma io non lo sto sparmando tu stai sparmando bro mi sto sparmando per niente io ma perché non così io contro Filippo e Cristiano contro Filippo chi ha detto io contro me? facciamo io contro Filippo e Reggio contro Filippo vieni Reggio non aspetta io contro... io sto pushando l'albero ahia non è più alleato è più alleato ah è più alleato ma qua non capisco tu sei con l'albero e Natale contro le due così è più utilizzato dovremmo prendere il tempo con me ma dai no no non posso più sullarvi grande ma Cristian è forte anche io guarda ma poi io e Cristian siamo più equilibrati pro contro non lo so pro contro blu ehm io sono con Cristian no vabbè ma perché mi spavate? io sono con Cristian è cento? no sai con Filippo oh vabbè io sono con Cristian dai ma ti ho preso raga ma siamo più equilibrati io Cristian perché siamo tutti e due pro e voi non lo so cosa siete cosa? non so cosa siete siete pro o noob o pro player? eeeh cosa avevi detto prima? ahhh vabbè no 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 io ho fatte 20 volte e vabbè ma mi ucciso ma mi ucciso il reggio mi posso con te allora io va bene chi ok ma c'è scritto il nome tranquillo ci prova grazie grazie di avermelo ricordato alle 4 avevo il passo filippo è l'unico che non c'è dai dai! ero one! vengo 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 no però sei con te lo capisci ok ok dai guarda vittanto se lo vorrei fare beh bro arrivo di riporto ho il mio kill adesso, guarda attento meglio per l'altro eh io il doppio 6 io il doppio 6 io il doppio 6 prendo lo scar appena muoio prendo lo scar a piccare prendo il doppio bro di un lato bro di un lato è morto? si ma che fai io? ma cosa fai io se mi è ucciso con lo scar io in aria col no scoop piccone e piccone e barrette piccone barrette boom oh vieni aspettami mannaia perchè lina leggera non mi ascolta io dico 157 35 35 e cilinco fai cilinco cilinco eh silinco se mi rimane e un po' di vibacco se vuoi scegliamo l' coop aspetta si ma basta che tenere il 2 fa sono in te sono con te bro aia ma tanto hai mirato si ma il criston è forte però mi ha leggerato anche i cosi oh per pochi ma lo sento Robbe ma vabbè puzzi buo per di te buo 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 devo stare contro Filippo e devo prendere il tattico Brun sparagli sparagli aia Brun è l'asurato Robbe mi ha anche loro adoratissimo cos'è? no no cos'è? cos'è zeppole che si è venuta in te? no io non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio non voglio buono 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 ci faccio tante cose le faccio la parola ok ok se io tengo le zeppole vaffangolo io di io mando le url bende tu mi hai detto e hai detto che sono i miei buoni tengo la crema calda la crema calda devo chissà no vedi che io prendo il tattico quello che si chiede no dai appena mori appena muoio vado a pranzo ma scusa ma felippo ma che cacchio stavi dicendo niente oh mi piace la crema cremata è sciolta tu per pochissimo guarda ma ecco un passo da chiaso non è giusto non vuoi reginarare non vuoi reginarare io non mi rigendo ma sa vita ha pochissima vita è mia la kill è mia la kill no bro era fuggita meno male che mi ha ucciso lui non vuoi ucciso si stanno a saltare no bro no bro sono insieme aspetta un attimo bro guarda tu mi hai sparato da dietro come gli infami bro è in uno dobbiamo pusharlo no è in due però perché ieri avete spento la play all'improvviso ero io e tu mi hai detto che mi parlassi era roba nera eh infatti mi hai fatto mi hai fatto raga io nel minuto tengo nel minuto tengo no tengo solo tre cecchini e due armi cecchini mi piace che non è che? mi piace mi piace mi piace mi piace ma non è che? mi piace ma ieri ma mi piace è Cristian contro due no 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 ma perchè Cristian? e vabbè grazie Cristian è forte è squilibrato è squilibrato bro no due pro è due pro non è squilibrato io sono tre io sono due io sono due è squilibrato Cristian Filippo è morto no con te vuoi stare con te dai eh si vabbè ma a me mi cagli troppo che ha detto praticamente no bro io vorrei stare con Filippo ma continuiamo ora sei con Filippo però dai dai bravo lasciami di me tu hai ucciso Cristian tu hai ucciso Cristian tutti 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 no ma non succeda con Filippo tu hai ucciso tutti Cristian no ma io sono con Cristian no no per me va bene per me va bene però è troppo squilibrato ti vado per la 62 io ti vado per la 62 io ti vado per la 62 no no tutto dietro ma che stai facendo? che stai facendo Cree? Cree che stai facendo? siamo insieme Cristian abbandona Cristian siamo insieme Cristian siamo insieme ah ok no bravo 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 ma vedi quanto sono smirato? ok vuoi stare con me? che ci fa? praticamente la mia vita fa così io lo prendo sempre ma prendo sempre qualcuno però non lì da lì così succede a me ah ma quindi io sono con me stiamo insieme stiamo insieme poi due pro e due pro non sono squilibrati quindi non è che ci sono i modi a capire sono con te Cristian è rotto non sei sparato ma ce l'ho sparato io raga il joystick non mi uccidete il joystick non mi uccidete anche io Filippo siamo forti vero? bestia è vero che il gioco della nostra sono due? no tre giura giuro stai insieme come te l'hai fatto? come te l'hai fatto? Filippo 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 non vuole non vuole non vuole bravo rap di merda rap di merda rap di merda si ti è preso agri morto ah ah un cazzo ma questo non lo so perchè mi miri? perchè mi hai sparato a casa e pensavo che stai risparando a me no no scusami no 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 andiamo andiamo il reppo ha sparato ma perchè mi stai cicchinando? no 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 stai sparando la porta guarda che cazzo intanto possiamo sparare sparare due eccomi però non non si carica questo cosa aspetta perchè non si carica? non si carica perchè è quello degli anni 90 no questo è del samsung non si carica non si carica non si carica ma mi avete ucciso che mi ha ucciso? io ti sto difendendo appena muoio vado alla mamma vengo appena muoio quindi me la devo un po' canterare ma io sono un hacker 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 cristian ma io mi sto scarica il joystick mi si sta scaricando cristian sei te il giallo sei te ok no è tutto mi viene sotto eccomi si mi sono a sparare ok io vado a lavarmi torno subito però torno subito ti metterò un minimo di 2 minuti torno subito l'eggi si è rigenerato per metterlo nooo per favore per metterlo per metterlo per metterlo per metterlo per metterlo eccomi raga eccomi 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 o no è una domanda allora due contro due allora due contro due tu mi puoi prendere per il culo marrochino facciamo due contro due io sento christian che si lava il culo no vabbè dai non ci riuscirò mai aiuta aiuta no 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 double kill double steal ho detto double steal io sento christian lavare il culo di mamma no no che se mai ci sente che è staccato le cuffie ci sente una radio aiuto posso riuscire a fare è un scoop decente lei mi doveva servire a me la kill tengo 63 aiuto aiuto non ci credo però sono sudatissimo e sapete perché? perché adesso faccio una figura di schifo perché adesso christian sente tutto quello che stiamo dicendo dalla tv e ha già sentito molte cose brutte io no perché non lo puoi leggere? eh? tu lo stai�itando? chi stai rispondendo? ma se stai rispondendo cosa vuoi?" aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hehehehehehe işte questo noi c'è la mia scuola le stiamo aaaaaaaaaaaa , però viena tranquilla in un momento tanto tanto bene nerva rischia sopra di pollu ah right aaaaaah ah 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 Mater ma quanto sono stupido chi spacca la mia scala dove sto costruendo è un pro player e si sfidano lena leggera contro red g chi vincerà si chiama red g vabbè robin evitato la casa quindi il suo vero nome è red g ah red no mi sembrava proprio red g si si cammackling no non mi viene arrabbiarmi non ci credo che ti ho sfiorato ok non ci ammazziamo solo un oscuro solo un oscuro provo a fare un oscuro incredibile a tutti contro tutti no perchè contro di me aia aia proteggi milena sono sono la principessa di super mario super mario super mario super mario super mario super mario NOSCUP 200 Bessere già Brutto ho preso 200 di NOSCUP GG Io provo Io l'ho fatto a Cristian In aria Raga Provo a fare un NOSCUP Da un botto di distanza Raga mettetevi da una parte Raga Non fate crollare questo Non la fate crollare Provo a fare un NOSCUP Vi prego Non la fate crollare Ho detto nola Fate Nooo Sto cercando di farti almeno un NOSCUP decente Perchè ti conto uno Paglia Io vedo la vita di Elena Reddici Tieni uno di vita Sto bene No Tieni uno di genera Perchè vuole Cronosco Perle già le NOSCUP Non te lo Capisci? Mi merda Prova Stiamo tutto con quel diretto Perchè noi C'è la squadra Non lo Tutto con quel diretto Ok Tutti con questo Reddici Io quinto Lui è il mio alleata tried Io quinto Io quinto Prova a fare uno NOSCUP Però Paolo Ti sento? Io solo in un NOSCUP Ti sento? Ti sento al predittorio Leggi Reggi Reggi di merda Ok Vale Famlo vedere col schifo Provo a farlo cadere ma mi sta reagliando contro di me no e vado a farmi cura non vale volevo fregarmi una kill no 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 ma che cazzo vuoi schilepesce no se vuoi caricare ti volevo uccidre Raga io tengo la tua mira Che fai che fai Ti faccio questo Ecco no Volevo fare E ti uccidevo E ti credo è l'arco mio Raga non è l'arco No vabbè bro No vabbè bro Che sono fatto Raga ma voi Ma voi visto chi giocatore A schermo condiviso Ma l'altro account Allora qual è proprio il primo account Nella leggera Ok red g Ok Allora Ma tutti e due account Tengono una linea Tutti e due gli account Tengono la linea Sì Ah ok No perché a me non me lo faceva Quando ho giocato a schermo condiviso Tutti e due gli account Tengono Tengono La linea La connessione Sì Perché a me non me lo fa E vado a farmi curare E' vero scusa Sì la mia punizione Sì la mia punizione è proprio quella Perché l'ho indovinato Ok 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 Allora sparo in su Ma perché con il pompa io dico Che amico Qua mi picchia il pisello No Mio padre mi picchia il pisello No Aia Porco due Perché mi vuoi uccidere Mannaglia Perché tu ti impasta Ma tu sembri so putente Raga conoscete so putente Ma io non sembro so putente Aspetta ma ho sentito Cristian Raga raga ho sentito Cristian parlare Aiuto Ah sta facendo puzzette Mio padre mi picchia il culo E non lo so se mi va bene Se il tuo pisello Se il tuo pisello